Restano serie le condizioni di uno dei due uomini rimasti feriti sabato pomeriggio, finendo fuori strada con il quad, sul quale stavano effettuando un'escursione sull'altopiano di Asiago. I due, un vicentino e un trevigiano, hanno perso il controllo del mezzo, finendo per cadere in un dirupo. Immediate le operazioni di recupero da parte dei sanitari del SUEM, che hanno trasportato uno dei feriti al vicino ospedale di Asiago e il secondo in alisocorso al nosocomio di Treviso.